Il 2024 sta per arrivare, vediamo in questo video come migliorare la comunicazione online del nostro hotel e quindi di conseguenza aumentare le vendite. Ciao a tutti sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato sempre a voi, hotel, strutture ricettive in generale, per così da migliorare le vostre vendite online e dobbiamo capire quali sono quegli aspetti che vanno migliorati con l'urgenza perché sono quelli che in realtà ci causano una perdita di clienti. Ma prima di iniziare, prima di entrare nel dettaglio di questo video, come sempre iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Bene, vediamo quale può essere la prima questione da tenere a mente, a cosa dobbiamo fare attenzione? Beh, al nostro sito web, a casa nostra. Beh, ragazzi, il sito deve essere fatto bene, deve essere aggiornato. Se vi ritrovate nel 2024 con l'offerta di Capodanno 2019, bene, abbiamo un problema, c'è qualcosa da rivedere. Almeno la sezione offerte. Quindi quella cercate di tenerla aggiornata oppure semplicemente togliete quelle vecchie e mettete un non ci sono offerte in corso. Quindi se tutte le altre informazioni poi sono corrette, va bene così. Però nel momento in cui ci sono foto che non si caricano più, oppure come dicevo ci sono delle offerte vecchie, che cosa danno? Danno un senso di abbandono e quindi magari non mi fiderò a prenotare sul vostro sito. Quindi che cosa succede? Vado a finire su booking.com. E noi questo lo vogliamo? Assolutamente no. Altra cosa importantissima per il nostro sito web che in tanti ancora sottovalutano nel 2024 è quella del codice SSL. Ragazzi, questo è davvero fondamentale. Se non lo sapete è quello che vi dà l'HTTPS, il lucchetto vicino al vostro URL, URL del vostro sito. Ebbene, quello significa che nel momento in cui io approdo sul vostro sito e devo effettuare un pagamento, i miei dati, i dati che io lascerò sul vostro sito, saranno sicuro. Ma sapete qual è il problema ben più grave? Che ci sono alcuni browser tipo Google Chrome che non ti fanno proprio accedere a questi siti web se non c'è questo codice. Che davvero, credetemi, ha un costo di 80 euro l'anno, 100 euro l'anno. Ci sono alcuni provider che ve li danno addirittura gratis. Quindi pensate un po'. Che cosa succede? Che nel momento in cui io provo ad accedere a uno di questi siti web dove non c'è il codice SSL, Google Chrome mi blocca e dice vedi che questo non è un sito sicuro. Sei sicuro di volerci andare? E che cosa fa l'utente medio? Dice di no. In questo caso voi potevate avere un utente interessato che era lì pronto a comprare una stanza su un giorno da voi e in realtà per questa minuzia voi lo avete perso. Quindi attenzione, andate subito a controllare dopo che finisce questo video se voi lo avete installato o meno oppure chiedete a vostro webmaster. Tutto bello quello che vi ho detto finora ma non vale niente se voi il sito web non lo avete. Attenzione, siamo ancora nella situazione in cui si acquisiscono i clienti, si fa un lavoro enorme di comunicazione sui social, comunque in generale per fare cosa? Mandare i clienti a prenotare su Booking. Perché? Voi state regalando in questo caso commissioni a Booking. Perché? Che cosa sono quelle commissioni? Che cosa rappresentano? Bene in quel caso Booking. Occhi, che sia con quell'ota sulla quale fate affidamento, fa un lavoro di marketing al posto vostro. Voi state pagando per quello. Ma nel momento in cui il cliente lo avete acquisito voi, non lo potete mandare su Booking. Quindi è necessario che facciate un vostro sito web. Io capisco che ci sono casi in cui il budget non c'è. Perché fare un sito web costa. Ma allo stesso tempo io vi dico che non è necessario fare un sito web super strutturato con 10.000 sezioni, 10.000 pagine. A volte basta anche un one page fatto bene, un one page funzionale dove c'è un copy scritto bene, dove c'è la possibilità di effettuare le prenotazioni dove ci sono installati tutti i sistemi di tracciamento. Bene ragazzi anche con un one page voi avete un posto vostro, avete casa vostra online dove poter invitare le persone a entrare conoscervi e poi infine a prenotare. Quindi mi raccomando basta mandare persone su Booking.com anche per solo vedere le foto delle camere perché credetemi mi è capitato anche questo. Per solo i clienti al telefono che facevano ai loro clienti, ah se vuoi vedere le foto delle camere vai su Booking.com e le trovi lì. Ma secondo voi io poi dove vado a prenotare? Continuo a prenotare da voi o continuo a cliccare su Booking.com che mi dice ah vedi che sei un genius e quindi ti faccio l'offerta X, Y e tutte quelle che volete. E a proposito di prezzi un errore che ormai nel 2024 non dobbiamo fare più è quello di non avere prezzi aggiornati sul nostro sito web. Quindi che cosa succede a volte? Che sul sito web abbiamo non so 200 euro a notte su Booking tolti tutti gli sconti che Booking fa di default abbiamo un prezzo nettamente inferiore magari abbiamo 150 a 170 euro e poi da lì sappiamo che cosa succede tra gli sconti che Booking può applicare in autonomia. Quindi capite bene che questa cosa non va perché voi a quel punto avete vi siete fatti un sito e casa vostra le persone finalmente arrivano da voi direttamente ma poi trovano l'offerta più inconvenienti sul Booking è ovvio che prenotino lì. A meno che non vi chiamino però allo stesso tempo poi dovete avere delle persone alla reception che siano effettivamente in grado di vendere e credetemi questo non è scontato non è detto che la persona che voi abbiate assunto e che sia lì alla reception sia effettivamente in grado di vendervi a meglio le stanze. Ma lasciamo perdere un attimino il sito web pensiamo ai social vi ho già fatto recentemente un video sugli eroi da non fare su instagram con il vostro hotel ma in generale parliamo di tutte le piattaforme bene anche in questo caso non abbandonate le vostre piattaforme ma aggiornatele soprattutto con le informazioni più importanti e cercate di pianificare per pubblicare regolarmente vedete che se questo lavoro voi lo fate vi mettete almeno una due volte al mese e fate questo lavoro di pianificazione vedete che sarete anche più costanti nel pubblicare online perché altrimenti che cosa succede lasciate questa cosa alla giornata e di conseguenza poi presi dai mille impegni che ci sono in una struttura ricettiva di conseguenza che cosa farete non pubblicherete più e quindi vi ritrovate con l'ultimo post pinnato in alto che fa riferimento a ferragosto e noi stiamo magari a gennaio 2024 non lo so oppure l'ultimo post risale al 2020 e così via non va bene facciamo in modo tale che le persone che poi ci vanno a cercare sui social vedano chi siamo che siamo aggiornati e che effettivamente siamo ancora in attività altra cosa molto importante che in realtà viene ancora sottovalutata il fatto di rispondere alle recensioni voi lo dovete fare rispondete sempre commenti e recensioni coltivate la nostra la vostra community è davvero molto importante per diversi aspetti come per esempio quello della SEO quello dell'umanizzazione del brand ora non sarò qui a spiegare nel dettaglio tutta questa parte perché ho già fatto diversi video in merito e si vorrebbe proprio un video di approfondimento a parte ma quello che è importante che voi vi curiate di coloro che poi interagiscono con voi sui social perché è quello che conta voi non siete sui social lì pronti sul vostro piedistallo nella vostra vetrina a farvi vedere basta il momento in cui le persone vi contattano e vogliono interagire con voi voi avete fatto bingo dovete esserne contenti dovete soprattutto rispondere perché dovete dare seguito a quell'interazione perché dovete volerne molte di più quindi mi raccomando rispondete sempre ai commenti e recensioni che ricevete online e infine se non sapete da dove partire il con tutte queste informazioni che vi ho dato tutti questi consigli che io avevo fornito bene è ora di chiedere una consulenza in descrizione trovate il mio sito web e da lì potremo fare una chiamata conoscitiva per vedere se effettivamente i miei servizi fanno a caso vostro io spero che questo video vi sia stato utile fatemelo sapere nei commenti e ovviamente prima di andar via non dimenticate di iscrivervi al canale vi aspetto nel prossimo video besos iscriviti al canale vi aspetto